Ciao amici, benvenuti nel mio canale. Sono qui con un bellissimo video. Non dimenticare di iscriverti al mio canale, mettere mi piace e condividere il mio video per essere informato sui post più recenti e aggiornati. Cari follower, tutti gli argomenti e le notizie che vi incuriosiscono sulle vostre celebrità preferite saranno sul nostro canale. La famosa attrice Sila Turkoglu ha fatto una grande sorpresa che avrebbe scosso il mondo delle riviste. La stella splendente dell'ultimo periodo, Sila Turkoglu, avrebbe firmato un accordo segreto con il famoso marchio di moda Brazil Avenue. Questa notizia, considerata un passo importante nella carriera di Turkoglu, ha creato grande entusiasmo nel mondo delle riviste. Secondo alcune indiscrezioni, questo accordo ha fatto arrabbiare molto Faruk Turgut. Recentemente, abbiamo iniziato a sentire spesso il nome di Sila Turkoglu con le sue serie tv e progetti cinematografici. L'attrice Sila Turkoglu, che nonostante la sua giovane età si distingue per il suo grande talento e la sua bellezza, sta rapidamente crescendo nella sua carriera di attrice. Tuttavia, la notizia che Sila Turkoglu, fino ad ora nota per la sua recitazione, entrerà anche nella carriera di modella, ha sorpreso tutti. Brazil Avenue è conosciuto come un marchio di moda preferito da marchi prestigiosi e di fama mondiale. L'accordo segreto di Sila Turkoglu con questo marchio suscita curiosità su che tipo di periodo entrerà nella sua carriera. Ciò suggerisce che entrando nel mondo della moda, possiamo portare una nuova dimensione alla tua carriera di attore e fare una svolta con la nostra collaborazione con il marchio. Tuttavia, uno di coloro che ha prese questa notizia fu Faruk Turgut. Si sostiene che Faruk Turgut sia impazzito dopo che Sila Turkoglu ha firmato questo accordo. Si dice che Turgut non abbia accettato quest'uomo e abbia reagito con grande rabbia a quest'uomo, che ha contraddetto l'idea di Turkoglu di limitare la sua carriera solo alla recitazione e di non indirizzarlo ad altre opere. Bene, vi presenteremo gli ultimi sviluppi sulla decisione che prenderà l'idiota di Turkoglu sulla questione. Arrivederci!